Bentornati a Video Top, si parla di teatro e allora di scena come sempre il mitico Paolo Vitale di Central Park che questa settimana ci porta a un vero e proprio capolavoro. Stiamo parlando di Pipino il Breve perché torna in scena al Teatro Brancati la commedia musicale di Tony Cucchiara e viene rappresentata da una compagnia composta da più di 20 artisti tra attori, cantanti, musicisti e ballerini guidata da lui, il mitico Tuccio Musumeci. L'opera chiude la stagione 2014-2015 del mitico Teatro Brancati di Catania e allora linea Paolo Vitale di Central Park. L'idea è stata di Tone Cucchiara perché lui rappresenta Pipino il Breve come rappresentata dai pupari siciliani. I pupi siciliani, dico, si rifanno sempre alla storia della Francia. Dici ma perché Pipino il Breve? Pipino il Breve perché i pupari lo rappresentano vecchio, va bene, vecchio e basso, breve. Invece breve nella storia è perché durò poco, perché poi fu ucciso dai figli. Noi l'abbiamo fatto, io almeno l'ho fatto per 40 anni consecutivi questo Petino il Breve. Abbiamo girato tutta l'Italia a tappeto fino a 4 anni fa, siamo stati l'ultima volta a Genova e poi 5 anni all'estero fra l'America, New York, Broadway siamo stati perché c'è un grande debutto. Poi abbiamo fatto il Canada, poi siamo stati in Argentina, in Australia, abbiamo girato il mondo con questo Pipino il Breve. E' una, più che musical lo diciamo perché in Italia secondo me non esistono i musicali, i musicali sanno fare gli americani e gli inglesi. E' una commedia, una commedia musicale. Le canzoni, anche cantate in siciliano, sono molto orecchiabili, va bene. Per quanto riguarda la... quando abbiamo fatto 6 volte quasi tutta l'Italia a tappeto, viene un po' italianizzato, vengono italianizzate le parti, specialmente quella mia, per fare capire molte cose. Invece all'estero, in America, c'è la fascia fosforescente perché loro non sono abituati al doppiaggio anche cinematografico come siamo abituati noi in Italia. Loro hanno la fascia, il film viene originale, così il teatro lo vogliono originale. C'è la fascia fosforescente, va bene che passa sotto. Io ancora ho delle registrazioni, quando l'abbiamo fatta in Argentina, perché abbiamo fatto 9 minuti, ci sono stati 9 minuti di applausi e di bisse. Non sapevamo più cosa fare. In Australia, poi abbiamo fatto molti posti, Brisbane, abbiamo fatto Cidre, abbiamo fatto Melbourne. Siamo stati anni, 5 anni all'estero, girando a destra e a sinistra con questo Pipini il Breve. Il Rugantino, c'erano i grandi attori, Aldo Fabrizi, c'era Nino Manfredi, ma il Pipino fu una cosa un po' strana, perché loro non la chiamavano Pipini il Breve in America, la chiamavano la commedia medievale. Cioè, loro l'hanno accettata perché era una fiabba, era semplice, che la potevano vedere i bambini e i grandi. Perché noi, quando ogni volta che viene ripreso, il problema è che la gente, che l'ha visto 6-7 volte, poi ritorna con i figli, nipoti, con la nuova generazione per farlo conoscere. Io mi ricordo a Venezia, quando siamo stati anni fa per il Campiello, Paolo Grassi, grande direttore dello stabile del Piccolo di Milano, veniva ogni sera ad assistere Pipini il Breve, perché addirittura d'inverno l'abbiamo fatto al Piccolo. E il Piccolo, quando Paolo Grassi gli l'hanno proposto, allora Mario Giusti, che era il direttore del Teatro Stabile, era scandaloso fare, nel Tempio della Prosa, questo, diciamo, musico, questa commedia musicale. Poi invece Paolo Grassi si è regreduto e di fatto poi la portò a Campiello a Venezia, avendo un grande successo. Lui veniva ogni sera a vederlo. Ultimamente, quando siamo stati a Genova, mi hanno fermato gente e mi dicevano, dice, uh, questa è la terza volta che non lo vediamo. Cioè, tutti i posti dove siamo stati, cioè, ritornando, la gente dice, uh, Pipini il Breve, per portare i figli, per portare i nipoti, cioè la nuova generazione glielo vogliono fare con noi.